Facebook contro le notizie false. Il social network che conta 1,8 miliardi di utenti ha introdotto nuovi strumenti che permetteranno di limitare la diffusione di articoli discutibili. Agli utenti sarà data la possibilità di evidenziare i contenuti sospetti che verranno sottopusti alle verifiche di siti come ABC News e Associated Press che ne dovranno accertare l'autenticità. Nel caso in cui si tratti di una notizia fasulla l'articolo non verrà cancellato ma verrà segnalato come disputi, discutibile appunto. Una novità voluta da Mark Zuckerberg dopo che l'azienda di Cupertino era stata attaccata per la diffusione di notizie bufala durante le presidenziali americane.